Buonasera Luca, buonasera ai tuoi pionisti, hai detto giustamente un gol importantissimo per Cristian Buonaiuto, la concorrenza è guerrita lì davanti ma questo pomeriggio quel gol vi ha ridato una fiducia troppo troppo importante, perdere per la seconda volta consecutiva poteva avere delle ripercussioni oggi? Sì, oggi era importante non perdere e dare almeno una scossa dopo la sconfitta di Benevento, ci siamo riusciti e siamo contenti ma con il rammarico perché penso che abbiamo fatto una buona partita Allora, è il motivo di questa mancanza di creatività sia da parte della Salaritana che da parte del Perugia? Chiaramente in questo caso parliamo del Perugia, una sola occasione, quella costruita nel primo tempo, poi vi siete praticamente scontrati sempre sul muro difensivo della Salaritana tutto questo dovuto anche all'atteggiamento degli avversari, no? Salaritana molto schiacciata a sua metà campo Sì, è una squadra che concede poco, non ti fa esprimere un buon calcio, però comunque abbiamo avuto diverse occasioni, sì, il primo tempo ne abbiamo avute un paio e poi logicamente la partita si è messa un po' nel verso storto dopo il rigore siamo stati bravi e fortunati nel trovare il pareggio e poi nel finale se avessimo avuto un po' più di tempo magari qualcosina in più secondo me veniva fuori Ecco, la difficoltà principale del Perugia è stata quella proprio di aumentare il ritmo, ora al di là delle scelte della tecnico c'è un po' di rammarico, forse anche per aver concesso quel rigore che poteva essere evitato e che ha compromesso un po' la ripresa della vostra squadra Quelli sono episodi, purtroppo l'episodio è andato contro di noi e siamo stati, ripeto, siamo stati bravi a rientrare subito in partita Senti, torniamo sull'azione del gol, l'ha angolata alla perfezione, molto bravo Rossi a cercarti nel creare superiorità numerica Lì deve andare di giustezza e l'hai fatto alla grande Sì, sono stato contento ma Ale mi ha dato una grandissima palla, non era semplice metterla dietro e poi ho calciato bene e abbiamo fatto gol per fortuna No, non penso sia stato un approccio molle, giocare contro la Sanitana in casa della Sanitana non è semplice Ripeto, concede poco, è una squadra che è messa bene in campo e che fa giocare male l'avversario Quindi non parlerei di approccio molle ma comunque di un approccio complicato La classifica ci dà dei bei risultati e siamo contenti di stare lì su Poi logicamente sta a noi dare continuità con i risultati Certo, devo dare soltanto continuità e sì, il mister ha ragione, non sono entrato benissimo Sono stato fortunato poi a fare gol e a cambiare il verso della partita